Non di solo pane 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 Quello che c'è l'importante nella riforma Non è un merito a questo governo È un merito dell'Europa che ci ha obbligato ad assumere 100.000 persone Per cui probabilmente dall'anno prossimo si spera la scuola avrà disposizione più insegnanti Avrà disposizione più insegnanti per cui potrà dedicarsi in maniera un pochino più approfondita e più accurata a quelle che sono le necessità dei ragazzi Parlo di approfondimenti Quindi, niente, tutti tuttiologie Tu cosa hai deciso di fare? Io ingegneria gestionale. Mamma mia siamo a posto allora per il futuro. Senti Silvia so che devi andare a studiare adesso allora a nome tuo facciamo anche l'imboccalupo a tutti i ragazzi delle quinte che si stanno preparando agli esami, agli insegnanti che li stanno accompagnando, agli insegnanti che verranno a esaminare il lavoro che avete fatto in questi anni e ti auguriamo tante belle cose a te e a tutti i tuoi amici per il futuro. Grazie di essere stata con noi. Corri Silvia corri che sei giovane mentre noi che siamo un po' più anziani ci dedichiamo ancora a qualche minuto Mauro. Io ne approfitto anche così. So che tu hai un ruolo anche particolare nella scuola. Ti chiedo è così tanta la burocrazia anche da ostacolare poi il tempo a quelle cose di cui magari la scuola avrebbe anche più bisogno? Allora sicuramente quello che si lamentano la maggioranza degli insegnanti quasi tutti è la parte burocratica. Il bello del lavoro dell'insegnante è essere in classe e avere un rapporto con questi ragazzi, con questi giovani è una cosa secondo me magnifica e impagabile. Dall'altra parte ci troviamo a dover compilare, ad adempiere ai doveri che sono sicuramente molto meno interessanti. La compilazione magari di moduli, sovramoduli eccetera eccetera. Diciamo che secondo me il mestiere degli insegnanti è il mestiere più bello che possa esistere. Però ripeto, secondo me ci andrebbe maggior attenzione. Dal punto di vista della burocratizzazione forse si sta facendo qualcosina. L'avvento del registro elettronico all'inizio sembrava uno spauracchio, alla fine ci ha permesso di superare un pochino alcune difficoltà. Certo però che tanto lavoro nascosto non viene assolutamente riconosciuto. Ecco, diciamo adesso entro a gamba tesa Mauro, come noi ci piace il calcio, abbiamo la passione per la stessa squadra che è storia dell'arte per certi aspetti, quindi entriamo di nuovo nell'ambito scolastico. Ma qualcuno dice, ma questi insegnanti si lamentano anche, insomma hanno tanti giorni di vacanza, hanno dei privilegi durante la settimana a volte. Ecco forse questo lavoro oscuro non tutti lo vedono. Come si può spiegare anche a chi vede in maniera sbagliata o diversa il ruolo e il lavoro dell'insegnante? Secondo me l'insegnante si può fare in due modi, o in modo serio, che è il modo auspicabile, ed è il modo in cui io vedo la maggioranza degli insegnanti obiettivamente lo fa, e in un modo invece io lo chiamo ottimare il cartellino. Fortunatamente sono veramente pochi quelli che fanno il loro dovere giusto per arrivare a fine mese. La maggioranza degli insegnanti, come diceva prima la ragazza, fa il proprio dovere con passione e non sono le ore di lezione che chiaramente, viste da fuori, sono 18 e sono sicuramente poche. Ma al di là delle ore di lezione c'è una, a parte la preparazione, ma proprio il seguire i ragazzi al di fuori dell'orario scolastico. I rapporti umani non si staurano nelle due ore settimanali, i rapporti umani si staurano lavorando al pomeriggio, aiutando i ragazzi a superare le difficoltà scolastiche e a volte non scolastiche. A noi insegnanti è chiesto uno sforzo non indifferente, non solo dal punto di vista del nostro lavoro, chiamiamolo tra virgolette, ma viene chiesto uno sforzo supplementare in quanto adulti. Voi sapete meglio di me che le famiglie ultimamente, negli ultimi anni, non sono più le famiglie di 30 anni fa, quando erano famiglie codificate, c'era un padre, una madre. Adesso molte famiglie sono, perché la società va così, di fatto sono famiglie allargate e i ragazzi, soprattutto quelli più giovani, 14-15 anni, cercano anche dei punti di riferimento. Tutto questo la stragrande maggioranza degli insegnanti lo sa e cerca di andare incontro alle ragazze nelle loro esigenze. Mauro, ancora un paio di domande, una subito, una alla fine, nella quale ti chiederò se tu potessi fare una riforma, da che cosa partiresti? Così hai tempo per pensarci in 20 secondi, non di più. Ma invece la domanda che ti faccio adesso è questa. Insieme abbiamo anche condiviso la fortuna e la gioia di visitare qualche paese del mondo. Abbiamo visitato anche qualche scuola, entrando così, superando regole, regimi, centinaia e migliaia di bambini. Penso ad alcune zone di Zanzibar che abbiamo visto insieme. Ecco, quando penso a quei bambini e guardo ai nostri ragazzi, mi sembra di poter dire che noi siamo dei privilegiati. Che cosa avrebbe bisogno un ragazzo di oggi, secondo te, davvero per dare il meglio di sé e capire quanto sia importante avere un'istruzione fatta bene e che gran parte spetta lui anche come impegno? Allora, i nostri ragazzi servirebbero un pochino più di grinta, secondo me. Diciamo che la nostra società li ha abituati un pochino ad avere tutto. Quando incontrano le prime difficoltà, molto spesso e molto volentieri si lasciano andare. Secondo me manca un po' di grinta. È anche il nostro compito cercare di caricarli comunque. Intanto che Mauro pensa al primo punto di una riforma come ministro, io ne approfitto per ricordare, cambiando argomento, che stiamo ricordando con attenzione in tutte le comunità cristiane, la tragedia del Nepal, questo terremoto che ha piegato il paese, ha ucciso migliaia di persone. Domenica in tutte le sante messe le offerte raccolte verranno poi devolute per il Nepal. Qualcuno dice che se ci sono le prime comunioni e le cresime si può rinviare un'altra domenica normale. Invece no, secondo me. Una cosa che forse chi l'ha suggerita non ci ha pensato bene. Proprio in quell'occasione bisogna chiedere, anche a chi abitualmente non va messa, si chiede un aiuto di solidarietà che va oltre tutto quello che è il credo personale o dovrebbe essere così. Quindi vi invito tutti a essere generosi perché davvero dobbiamo stare vicino a questa popolazione. Prima di concludere la puntata, guardando al Papa, Mauro, l'ultima domanda. Da che cosa partiresti se fossi ministro dell'istruzione? Cercherei di ridare un peso sociale alla scuola. La scuola una volta era considerata un modello, un punto di riferimento per la vita sociale. Adesso è diventato a volte purtroppo un posto dove parcheggiare i nostri ragazzi e questo non è bello. Nella riforma il suggerimento grosso che mi sentirei di dare al governo è quello di non dimenticarsi dei tanti giovani precari che stanno lavorando in questo momento e che stanno seguendo dei corsi di abilitazione e che rischiano di non essere assunti. È solo questo. Speriamo che Matteo se ci ascolta, se guarda VCO, ascolti anche i consigli di Mauro e di Silvia che abbiamo avuto nostro ospite. Adesso invito Loris a staccare da noi, a inquadrare il lago che c'è alle mie spalle se non è un'operazione troppo complicata perché vorrei concludere non più con il nostro volto ma vorrei che voi vedeste il volto di Papa Francesco, vedeste il volto di tanti ragazzi, giovani, uomini e donne che sulla terra vivono il dramma della guerra. In questi giorni il Papa parlando a 7.000 bambini, rispondendo alle domande sulla guerra, sulla pace, ha avuto parole che io voglio ripetere per tornare nelle vostre case con le quali anche congedarmi a nome di Don Renato da questa puntata insieme mentre ringrazio Mauro Grati di essere stato nostro ospite. Voi sapete, dice il Papa, che è la cupidigia che ci fa tanto male, la voglia di avere di più, di più, più denaro e quando noi crediamo che tutto gira intorno al denaro, il sistema economico gira intorno al denaro, non intorno alla persona, all'uomo e alla donna. Si sacrifica tanto e si fa guerra per difendere il denaro, per questo tanta gente non vuole la pace. Si guadagna di più con la guerra, si guadagnano i soldi ma si perde la vita, si perde la cultura, si perde l'educazione e tante altre cose. Il Papa prosegue e dice altre espressioni che altrettanto condivido con voi. La pace è prima di tutto che non ci siano le guerre ma anche che ci sia la gioia, l'amicizia fra tutti, che ogni giorno si faccia un passo avanti per la giustizia perché non ci siano bambini affamati, malati o che non abbiano la possibilità di essere aiutati nella salute. Fare tutto questo è fare la pace. La pace è un lavoro, non è uno stare tranquilli. È lavorare perché tutti abbiano la soluzione ai problemi, ai bisogni che hanno nella loro terra, nella loro patria, nella loro famiglia, nella loro società. Così si fa la pace artigianale. Ancora una volta il Papa ci sorprende con le sue parole e con queste parole vogliamo guardare alla Siria, vogliamo guardare alla Libia, vogliamo guardare a tante altre zone del mondo colpite dalla parola guerra perché davvero questo artigianato di pace che Papa Bergoglio suggerisce a tutti noi partendo dai bambini perché siano loro a costruirla in futuro possa essere patria e dimora di tutti noi. Mauro, auguri, buon lavoro per la scuola, a te, a tutti i colleghi della scuola e a tutti voi che ci avete seguito con attenzione e pazienza. Ci diamo l'appuntamento insieme a Don Renato. A settimana prossima.